Un saluto a tutti e bentornati all'appuntamento con Bookmania. Oggi parliamo di un libro che ci è piaciuto davvero tantissimo. Il libro si intitola Nel buio della casa, scritto da Fiore Mani e Michele Monteleoni, pubblicato da Spera e Nankukfer in una nuova collana che si intitola Macabre. E già qui dalla copertina e dalla collana capiamo anche un po' il genere. Ma ne parliamo insieme a Fiore e Michele al quale diamo benvenuto. Benvenuti con noi. Grazie, grazie mille. È un piacere avervi qui per parlare di questo libro perché finalmente si parla di horror, si parla di italiano perché anche questo è un fatto, cioè che in Italia si dice che si legga poco horror ma si scrive anche poco horror, però quelle poche cose sono davvero molto interessanti proprio come il vostro libro che adesso andremo un po' a sviscerare. Io però sono curiosa, prima sarà una domanda forse banale, vi avranno fatto già tutti, però sono molto curiosa di capire come è nata l'idea di questo libro. Grazie, l'idea è stata di Michele, aveva iniziato a buttare in giro questa idea, voleva farci un fumetto, poi me l'ha fatta leggere e me ne sono andato a guardare e ho detto no ti prego invece scriviamoci un romanzo insieme. Sì, ho scritto per tanti anni anche per testate horror come Dylan Dog, ho scritto Battaglia per Cosmo che parla di un vampiro italiano, quindi ho scritto effettivamente tanti horror, però non avevo mai pensato a farne un romanzo e poi mi sono sposato una scrittrice, quindi è stata l'occasione giusta per provarci e a quanto ci ha detto ci siamo anche riusciti abbastanza, quindi siamo molto felici del risultato. Quando si dice l'altra metà, no? Anche in questo senso è giusto compensare insomma le qualità di uno e dell'altro, ecco. Tutte e due abbiamo una grossa passione per Stephen King e per l'horror in generale, come facevi notare tu la collana macabre dichiara ispirazione di Indiana e quindi in realtà molte atmosfere, molte idee che ci stanno nel libro sicuramente vengono da autori chiamiamo tanto come King, Mateson, ma in realtà hanno anche fortissime contaminazioni proprio con il mondo dei fumetti, visto che sono uno sceneggiatore di fumetti e che appunto ne leggo moltissime e ci sono tra l'altro autori davvero notevoli in campo horror tra i fumettisti. Ma infatti nel campo dei fumetti l'horror è molto più sdoganato rispetto alla letteratura consueta, anche se... Un genere in generale, secondo me. Assolutamente. Anche se voi fate un genere horror un po' particolare, nel senso ho visto soprattutto all'estero questo genere che mischia sicuramente elementi sovrannaturali con anche il giallo, l'avventura e anche con un'atmosfera meno cupa rispetto ad alcuni autori, come può essere anche Sherry Jackson per esempio, un po' in qualche modo l'ispirazione alla lontana si sente di queste atmosfere gotiche legate anche alla casa, lei ha scritto molti libri ovviamente, ma non solo lei, tantissimi altri. Però insomma c'è anche questa componente, non voglio dire leggera, però comunque è molto molto più dedicata all'avventura o comunque anche ai battidecchi che ci sono tra i due protagonisti che sono estremamente divertenti e che in questo senso somiglia più vagamente a un genere come Dylan Dog, nel senso in cui c'è sicuramente la componente più forte ma c'è anche qualcosa di più distensivo. Quindi un genere che in Italia è poco battuto, a me viene in mente ad esempio un autore come può essere Dresden Files, non so se avete avuto modo di leggere, dove comunque questi elementi si mischiano insieme. Voi che ispirazione avete avuto in questo senso sul genere? Allora non saprei dire proprio un'ispirazione precisa, diciamo che è una storia che si prestava molto ad avere diverse voci, anche perché comunque è una storia che si sviluppa con due linee narrative, abbiamo due protagonisti, Ellison e Noah. Diciamo che la linea narrativa di Ellison è sicuramente un horror un po' più classico, più canonico e lei si confronterà infatti con la tipica casa infestata. Mentre invece tutta quanta la linea narrativa di Noah invece la definirei un pochino più thriller. Un Underwood thriller. Sì esatto. Un thriller Underwood. E poi anche per esempio nel cercare di rappresentare, con appunto anche i battiglietti fra i due protagonisti, se volevamo rendere i personaggi più realistico possibili, quindi abbiamo cercato anche di farli parlare come una coppia. Una vera coppia. Una vera coppia di trentenni. E poi... No, insomma sono due persone normali, vere e reali che abbiamo cercato appunto di renderle più possibili e reali. Beh ci siete sicuramente riusciti, infatti lo diciamo ai nostri ascoltatori, i protagonisti sono appunto Noah ed Ellison King e vorrei immaginare che King fosse un omaggio in qualche modo, anche a Stefan, insomma in qualche modo. Sono due protagonisti che si vedono nel loro svolgimento in due linee narrative come dicevamo differenti, una nel 2015, una nel 2019. non temiamo spoiler nel dire che nella prima linea temporale appunto si vede che cosa è successa, questa giovane coppia è arrivata in questa nuova casa, una giovane coppia con un bambino di sei anni e nel 2019 l'ambientazione è completamente diversa, troviamo Noah sempre insieme ad Ellison, ma Ellison è un fantasma e l'aiuta a fare un'indagine molto particolare perché sappiamo che c'è un architetto che, e non svegliamo troppo perché è nella trama, insomma ecco, che ha trovato un sistema per mettere le anime all'interno delle case, insomma e quindi c'è questo doppio mistero in realtà da scoprire che cosa è successo veramente ad Ellison, lo scopriremo nel corso della storia e come faranno a trovare, se lo troveranno ovviamente, l'architetto. Ecco, io sono curiosa di conoscere da voi meglio questi due personaggi, cosa ci potete raccontare di Ellison e Noah? Allora, molto spesso il modo, il metodo per far avvicinare un lettore all'horror è fargli capire che appunto parla di esseri umani come noi e secondo me la cosa che abbiamo cercato di più era proprio creare due personaggi che fossero, e lo so che è strano detto per dei personaggi di un horror ma amabili, che ci si potesse relazionare facilmente con loro e che un pochino ci innamorassimo anche noi dell'amore che li lega e naturalmente come ogni buon scrittor horror abbiamo sfruttato al 100% questa cosa per fare del male al lettore perché naturalmente se è vero che è un fortissimo sentimento d'amore che lega Noah ad Ellison è anche un libro che parla del superamento di un lutto, quindi chiaramente ripeto abbiamo fatto di tutto per rendere questo amore vero e poi per renderlo anche molto doloroso. Per usarlo proprio il lettore. Esattamente. Ci siete riusciti. E poi vabbè sono due persone in realtà come diciamo prima abbastanza normali, tutte e due si portano dietro un lutto, un dolore che li ha paradossalmente uniti di più anche proprio fisicamente visto che appunto come diciamo prima Noah ed Ellison viaggiano attraverso l'America uniti da questo strano legame che porta il fantasma di Ellison a convivere con Noah. E poi che altro? Ellison somiglia molto a me e Noah assomiglia molto a teore in realtà. Sì, siete invertiti i ruoli in questo senso ecco. Sì perché io mi sono occupata un po' di più del personaggio di Ellison e Michele si è occupato di più del personaggio di Noah e quindi è normale riuscire a rendere più credibile un personaggio quando lo fai vivere all'interno delle pagine finisci sempre comunque per descrivere qualcuno che conosci molto bene e quindi vai a rubare sempre comunque alle persone che sono più vicine. Sì, infatti in questo senso avete due background leggermente diversi, Fiore come scrittrice dicevamo prima, Michele come sceneggiatore. Come avete unito queste due particolarità, queste due capacità appunto in questo libro? Come siete riusciti a lavorare insieme in questo senso? Allora, è stato effettivamente un po' complicato anche perché il lavoro dello scrittore è un lavoro molto solitario, cioè interagisci con una seconda persona, ovvero il tuo editor, solo nel momento in cui tu hai finito tutto quanto il tuo viaggio all'interno della storia, mentre invece la figura dello sceneggiatore sin dall'inizio, dalla genesi comunque del proprio lavoro, lavora in team, lavora con le persone, parla sempre comunque con il disegnatore, ha un editor che è molto presente perché comunque la editor deve coordinare più persone all'interno del progetto, quindi sicuramente Michele era già pronto a lavorare con qualcuno. Non solo in coppia ma addirittura in team. Esatto, lavorai in team. Fiore no, io no invece. Fiore non lo era per niente. Per me sia la prima volta, quindi soprattutto all'inizio non abbiamo avuto problemi, abbiamo cominciato ad avere problemi verso metà della stesura quando le due linee narrativa hanno iniziato un po' a fondersi, in cui un capitolo si alternava con l'altro e la storia comunque in qualche modo proseguiva, era tutto quanto collegato. Lì abbiamo avuto un problema perché Michele è molto di giù il dovere, aveva scritto una storia di la scaletta e io no invece. E quindi a un certo punto lui mi ha fermato e mi ha legato a una storia dicendo che devo scrivere tutto perché devo sapere come va avanti la storia fino 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 alla fine e diciamo che ora siamo pronti per lavorare a una seconda cosa con un nuovo metodo che può funzionare molto meglio. È stata dura, ma insomma poi è giusto poi anche studiare dei sistemi diversi poi per scrivere. Infatti molti scrittori mi raccontano che spesso sanno come inizia una storia ma non sanno come finiscono finché non è andata avanti a un certo punto, insomma quindi capisco. Io so come inizia, so come finisce, so che bisogna andare da punto A a punto B ma quello che succede in mezzo me lo lascio un po', cioè mi piace scoprirlo mentre lo scrivo. A me non piace scoprire niente perché è questo problema. Esatto, quindi diciamo che abbiamo avuto problemi per questo, due approcci molto diversi. Ma però è interessante trovare un punto in comune, insomma il libro è senz'altro molto riuscito da questo punto di vista ma anche da altri punti di vista, anche perché non si riesce a distinguere fin dove arriva una persona e dove arriva l'altra, quindi vuol dire che vi siete amalgamati molto bene anche nella stesura e nella creazione di questi due personaggi che hanno ognuno una propria voce, anche questo non è assolutamente scontato, insomma perché stiamo comunque parlando di personaggi diciamo così inventati, in realtà sembrano molto molto realistici in questa storia. Così come un altro personaggio realistico è quello della casa. La casa è un simbolo utilizzato tantissimo nell'horror perché la casa non è solamente quattro mura ma è anche una sorta di rifugio, un confine dell'anima in senso figurato ma diciamo nel vostro libro non figurato, proprio materiale insomma. Ecco come avete deciso anche di legare questa storia di fantasmi alle case, a queste case che sono tipiche anche americane, sentivo anche alcune interviste dove avete spiegato insomma l'ambientazione necessaria a questa storia che è appunto un'ambientazione diversa da quella italiana proprio per struttura. Esatto, proprio per problemi di architettura. Perché all'inizio abbiamo pensato in realtà di ambientare in Italia perché comunque siamo due autori italiani, quindi perché imbarcarci in questa avventura e raccontare di un paese che sì conosciamo molto bene ma che comunque non è il paese in cui abitiamo, era in realtà una necessità puramente architettonica perché le case italiane comunque sono antiche, abbiamo una storia molto più antica rispetto a quella americana e sono molto più solide, sono pietri di cemento mentre invece le case americane sono totalmente di legno. Ancora non l'hanno imparato. No e poi c'è anche un'altra cosa che secondo me in realtà appare proprio poco nel romanzo però volevamo comunque che ci fosse, che che aleggiasse e che in America per un americano la casa era fino a qualche anno fa era una cosa molto concreta, molto solida e che sapevano che sarebbe sempre stata lì. Mentre invece il crollo dei mercati dei mutui ha reso insicura anche appunto quell'ultimo baluardo che avevano. Quindi anche proprio una crisi della casa è poi traslata nel romanzo in una crisi naturalmente molto più soprannaturale che però si ambienta proprio in quel luogo che una volta sembrava così sicuro, così stabile, così solido. E infatti c'è anche questa dicotomia proprio quando inizia la storia. C'è Alison che dice che la casa dove si stanno andando a trasferire è solida ed è una cosa che gli piace però la spaventa anche perché la casa è anche un posto in cui ci si ferma. Cioè quando si mette su casa è un pochino definitivo. Esattamente, è un pochino definitivo. Certo poi ci sono mille eventualità però diciamo che è proprio il punto in cui ci si ferma di qui in poi. Mentre invece appunto abbiamo cercato di smontare quella sicurezza proprio partendo dalle quattro mura della casa che diventano una prigione appunto. Infatti è molto interessante questo aspetto perché spesso viene sottovalutato il genere horror mentre è molto importante da questo punto di vista dall'analisi anche psicologica dei personaggi e dai risvolti anche spesso di tipo sociale che ha e quindi è un approfondimento molto interessante questo discorso in effetti della casa. Devo dire che però ovviamente è scritto in maniera molto avventurosa e molto incalzante quindi non ci si sofferma più di tante volte sulla riflessione perché sei davvero curioso di finire il capitolo, di scoprire che cosa succede dopo, che cosa è successo anche prima perché in realtà c'è questo doppio aspetto che si mantiene proprio fino alle ultime pagine. Io non andrei a svelare nient'altro del libro perché è bene che ovviamente i lettori l'approfondiscano prendendolo in mano, tra l'altro è anche molto bello proprio fisicamente con queste pagine rosse. Vi chiedo però che cosa vi piacerebbe in particolare che restasse al lettore una volta finito di leggere il vostro libro? Questa è una grande domanda, però si può venire subito in mente una risposta. Allora, so che è strano dirlo perché si tratta comunque di uno storio horror, però il divertimento, nel senso io mi sono davvero molto molto divertita nello scrivere questo romanzo e quindi spero che anche il lettore si possa divertire molto nella lettura. Quindi spero che appunto rimanga un ricordo di una buona lettura, divertente. Io spero tanto che piangano invece. Divertendosi però insomma anche è commovente in certi punti, questo sicuramente ci si affeziona molto ai personaggi come dicevamo prima, diventano quasi persone, quasi amici e vivere certe cose insieme a loro diventa davvero a volte un po' insomma commovente da questo punto di vista e quindi sicuramente il divertimento c'è ma anche un attimo di angoscia come del migliore dei libri horror che i nostri ascoltatori l'hanno letto. Io sinceramente lo consiglio anche ai non lettori di horror perché credo sia una lettura estremamente coinvolgente che possa davvero piacere a un pubblico molto vasto. A tal punto che vi chiedo se avete qualche cos'altro in programma per il futuro. Lo so che è appena uscito questo, che è prematuro chiaramente, ma come ogni lettore vorace e che ha apprezzato un libro sicuramente verrà in mente anche a loro come a me, insomma se vi sentiremo ancora, vi leggeremo ancora insieme su queste frequenze. Sì, sì, siamo già al lavoro su uno nostro horror, sempre fatto mani e questa volta ambientata in Italia. Sì, ambientata in Italia e in realtà non è così prematuro parlare di qualcosa che stiamo facendo insieme. Mi ha detto horror. Ah, horror. No, horror. Horror mi fermo. Perché stiamo lavorando ad altro insieme però non del genere. Dunque leggeremo qualche cos'altro anche io, so che avete collaborato anche a un graphic novel precedentemente e quindi immagino che sia in questo tipo di settore che vi leggeremo prossimamente, quindi resteremo sintonizzati, insomma, quando sentiremo i vostri nomi sapremo e troveremo qualcosa di interessante e di curioso, insomma, ad andare a scoprire. A questo punto non ci resta che consigliare Nel buio della casa di Fiore Manni e Michele Monteleone, pubblicato da Sperle e Nankupfer e ringraziarvi per essere stati con noi, per averci risposto a tutte le nostre curiosità. Grazie mille. Grazie mille. Grazie ancora. Grazie.